come una guerra che non finiva mai testimonianza di giacomo andreis detto sofia nato a marmora residente alla borgata serre di canosio classe 1891 contadino eravamo quattro fratelli e due sorelle mio padre era artigiano del legno che fabbricava i mastelli e le botti andava stagionalmente nelle ranghe noi che restavamo a casa prendevamo in guardia le pecore da quelli di roaschia le portavamo al pascolo al pascolo portavo sempre un pezzo di pane duro nella taschetta e come trovavo la sorgente lo mettevo a mollo nell'acqua pane acqua dal mattino alla sera pane e acqua e c'era disciplina nelle nostre case chi comandava nelle famiglie le bestie senza coda sono difficili da dominare avevo 11 anni mio padre scendeva in pianura a tagliere il grano io lo accompagnavo io portavo l'acqua e aceto alla squadra guadagnavo 10 soldi al giorno all'autunno partivamo a piedi con i ferri del mestiere appresso alba neve mango feisoglio monbarcaro castelnuovo giravamo la bassa e l'alta langa tutto a piedi e nelle langhe la gente viveva meglio che in montagna i contadini ricchi erano i più avari con noi i poveri invece erano generosi quando non andavamo nelle langhe battevamo la pianura da una cascina all'altra sempre a fare i bottai con quattro fette di polenta fritta in tasca a dormire sui fienili una vita d'assassino disaggiata era come in guerra la nostra vita era come una guerra che non finiva mai a volte sui fienili abbandonati dovevamo appendere dei recipienti che raccogliessero le gocce dell'acqua mica per niente mi sono rovinato la salute sono anche andato a lavorare in francia a ieres e poi a darla a fare il pastore passavamo attraverso la montagna quando c'era già la neve senza carte un anno avevo 14 anni era il 16 di novembre con mio padre sono salito da demonte per san giacomo e la val covera c'era molta neve e per non sprofondare abbiamo srotolato i sacchi cioè le lenzuola dei paglierici e passavamo lì sopra quattro metri e poi li stendevamo di nuovo avanti così a quattro metri per volta per non sprofondare un anno siamo partiti in quattro di sera verso la gardetta per raggiungere l'arche avevamo uno pratico come guida ma una spia ci ha traditi ha denunciato la guida ai carabinieri la nostra guida ha voluto accompagnarci lo stesso fino in alto ha voluto che continuassimo il cammino lui invece è tornato indietro ma in retromarcia marcando le pedate all'incontrario così i carabinieri non hanno capito che era tornato indietro uno dei nostri poi si è sentito male ha bevuto dell'alcol ed è caduto come morto abbiamo dovuto portarlo a spalle e trascinarlo sulla neve quando siamo arrivati in francia avevamo tutte le gambe spelate i pantaloni consumati a forza di sprofondare nella neve la francia allora ci dava da mangiare ma facevamo delle vitegrame ma la gente si voleva ancora bene ci aiutavamo ancora tra di noi a fare il fieno ci mettevamo tutta una squadra a turno passavamo da una famiglia all'altra tutto sulla schiena portavamo e uno voleva essere più forte dell'altro io avevo tre fratelli negli stati uniti in california a mcclar a lavorare nelle segherie mi hanno mandato i soldi per il viaggio ne andavano tanti in america siamo partiti 22 di marmora una volta sola uomini e donne era il 1907 da torino a modan abbiamo raggiunto havre il bastimento era la sassia lorena 250 lire il costo del viaggio prima della partenza le punture il mangiare un po di porcheria di roba scadente ci portavano il mangiare nelle cucciette con le marmitte come dare il rancio ai soldati il bastimento ballava mangiavamo e ricettavamo ma mangiavamo lo stesso eravamo 300 nel mio stanzone le donne per conto loro c'erano meridionali toscani lombardi veneti tutta bassa forza come noi siamo rimasti fermi due giorni nel mezzo del mare c'erano le burrasche le onde scavalcavano il bastimento avevamo paura il capitano è venuto nelle nostre camerate si è messo a gridare se sentite la tromba suonare saltate fuori si salvi chi può ma poi la burrasca è passata e abbiamo raggiunto new york lì c'era la visita medica ci guardavano l'occhio ci toccavano il polso con una mano sentivano i battiti del cuore e via una visita da soldato e new york mi ha fatto impressione quei palazzi a vista d'occhio e le strade sotterranee per le automobili e le soprelevate per i tram camminando sentivamo sopra le nostre teste i tram che correvano piegavamo la schiena dalla paura a maclar siamo arrivati con una ferrovia piccola come il trenino di dronero lì lavoravamo più di cento di marmora tutti sotto la stessa compagnia dieci ore al giorno sette lire e mezza di paga cioè uno scudo e un quarto a marmora guadagnavo 30 soldi e due lire al giorno quando c'era il lavoro e se ne faceva della fatica c'era l'unione che avrebbe dovuto difendere i nostri interessi ma non faceva mica tanto per noi c'erano anche i greci con noi ma in squadre separate caricavano i vagoni gli italiani eravamo ben visti perché lavoravamo non erano tanto ben visti quelli della bassa italia i padroni apprezzavano noi i vitun i montanari un po meno i patoc quelli della pianura i meridionali i black bago non erano apprezzati li conoscevano dal fisico e dal loro modo di parlare dalla pronuncia sono rimasto là quattro anni poi mia madre era sola qui e sono tornato avevo mica tanti soldi da parte e ho pagato il viaggio là si facevano gli scioperi 3000 in sciopero e con lo sciopero non guadagnavamo i miei 21 amici sono rimasti tutti là anche i miei tre fratelli sono rimasti là non mi hanno mai scritto sono morti là anche mia moglie ha tre fratelli là o ce n'erano tanti di marmora na marmorada e poi altri del colle e di preit a famiglie intere là il lavoro era pesante nei boschi a buttare giuppiante e noi nella segheria a fare le tavole abitavamo in baracche di legno e anche se lavoravamo forte riuscivamo a stare un po allegri ballavamo giocavamo alle carte alle bocce giocavamo tanto al pallone a pugno nel 1911 sono tornato dall'america nel 1915 sono partito da soldato la guerra l'ho fatta con il 244esimo fanteria la guerra ci ha rovinati ci avevano promesso la polizza premio di mille lire in quei tempi là con la polizza avremmo comprato quattro vacche andavamo all'assalto non capivamo più niente le punture ci avvelenavano eravamo come i cani arrabbiati passavamo sui morti senza fare un fiato erano le punture che ci intontivano il cervello andavamo avanti come ubriachi a infizzare la gente nelle baionette sul piave ero così stufo che marcavo sempre visita io ero anche un po carogna allora mi hanno legato per molti giorni al palo dei reticolati gli austriaci erano a meno di 100 metri mi vedevano perché era di pieno giorno ma non sparavano gli austriaci erano più educati di noi pensavano quello lì legato al palo è contrario al suo esercito è un punito così non spariamo e la patria era poco e niente per noi il mangiare era solo come dio voleva eravamo carichi di pidocchi dormivamo nel fango con il telo da tenda sotto senza paglia né niente la guerra è la rovina delle popolazioni quando sono tornato a casa per quattro mesi non ho potuto dormire tutte le notti mi svegliavo di soprassalto mi pareva di sentire l'allarme e le bombe e l'assalto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti